Terza parte la costruzione e le verifiche prestazionali col VNA. Il quinto passo finalmente prevede la realizzazione del choke. La realizzazione avviene avvolgendo 14 spide di cavo coassiale sucoform 141 FEP all'interno di una ferrite 240-43. Qui al lato vi ho messo un esempio dell'avvolgimento. Questo esempio è costituito da solo 9 spire e prevede l'inversione. L'inversione conta una spira per cui abbiamo fatto 4 spire più l'inversione 5 e altre 4 spire che fa 9. Tutte le volte che noi avvolgiamo un numero di spire da una parte uguale al numero di spire dall'altra parte e facciamo l'inversione il numero delle spire complessive sarà dispari. Quindi noi dobbiamo avvolgere 14 spire che è pari, dovremo necessariamente avvolgere 7 spire da una parte, 8 con l'inversione e 6 spire dall'altra parte che fanno 14. Il numero che conta è quello complessivo quindi 7 più 1 più 6 fa 14. Complessivamente sono 14 spire. Perché complessivamente sono 14 spire? Perché il flusso generato da questo primo gruppo di avvolgimenti è in questa direzione ma anche il flusso generato dal secondo gruppo di avvolgimenti è nella stessa direzione per cui i due flussi sono concordi e contribuiscono entrambi alla formazione dell'induttanza complessiva. Ma allora dite ma perché dobbiamo fare l'inversione? Ma l'inversione la facciamo semplicemente per avere l'ingresso da questa parte e l'uscita da quest'altra. Cioè l'uscita sarà diametralmente opposta all'ingresso e questo è comodo perché quando noi mettiamo il ciocco all'interno di un box, di una scatola, avremo l'ingresso da una parte e l'uscita dall'altra. Nulla vieta però di avvolgere tutte le spire nella stessa direzione e in quel caso lì avremo l'ingresso da una parte e l'uscita dalla stessa parte ma il risultato non cambierà. Su una ferrite di diametro 2,4 pollici abbiamo visto che possiamo avvolgere fino a 17 spire di filo da 5 mm. Questo filo nel nostro caso è da 4,1 mm quindi probabilmente ci potrà stare una spira in più. Ma perché non avvolgiamo tutte le spire che ci stanno? Non avvolgiamo tutte le spire che ci stanno per il semplice fatto che l'aumento del numero di spire avvicina le spire tra loro e quindi queste spire qua saranno più vicine tra loro e quindi la capacità parassita che si forma tra una spira e l'altra aumenterà e la capacità parassita va ad incidere sulla frequenza di taglio alle frequenze più elevate per cui se noi avvolgiamo il numero di spire corretto avremo una curva di attenuazione in frequenza fatta in questo modo qui mentre invece se noi aumentiamo il numero di spire avremo la curva che si sposta in questo modo e man mano che aumentano le spire aumenterà in questo modo qui quindi questo punto qua si sposterà verso sinistra verso le frequenze più basse quindi favoriremo le frequenze più basse perché subiranno un'attenuazione maggiore a scapito delle frequenze più elevate. È come se avessimo una coperta corta che se la tiriamo sulla faccia scopriamo i piedi o se copriamo i piedi scopriremo la faccia. Il sesto passo è testare il choke e verificarne le prestazioni. Il circuito di misura è questo qui ed è costituito sostanzialmente da un VNA. Questo è il confine della porta 1 e questo è il confine della porta 2 e il nostro choke verrà inserito tra le due porte. Prima di utilizzare il VNA è necessario svolgere la calibrazione. Dovremmo fare una calibrazione sol su questa porta poi dovremo inserire un tratto di filo di conduttore tra il polo caldo delle due porte e svolgere la calibrazione fru. Fatto questo verrà misurato il parametro S21 tra le due porte una volta che abbiamo rimosso il filo ed inserito il nostro choke. Ma perché l'S21? Ma perché l'S21 in decibel corrisponde all'insertion loss in decibel quindi alla nostra attenuazione cambiata di segno. Quindi il modulo dell'S21 in decibel sarà uguale alla nostra attenuazione ma cambiata di segno. L'attenuazione potrà essere misurata indifferentemente tra calza e calza, tra centrale e centrale o unendo la calza e il centrale da una parte e dall'altra e inserirle tra i policaldi dei due connettori. Qualunque sia il modo con cui inseriamo il choke tra le due porte il risultato non cambierà. Ma non solo, ma potremo testare il choke con del comunissimo filo prima di tagliare il cavo prima di avvoggere il cavo coassiale. Il risultato sarà diverso ma non sarà molto diverso da quello col cavo coassiale perché l'unica differenza saranno le capacità parassite che nel caso di utilizzo di filo del filo sono molto molto più piccole. Ma adesso bando le ciance e andiamo in laboratorio. Ho svolto la calibrazione SOL tra 1 e 55 MHz. Il piano di calibrazione è il piano di riferimento convenzionale del connettore N e poi avendo inserito questo adattatore l'ho spostato di 80 picosecondi che vedete espressi qua e ho riportato il piano di misura in questo punto, su questo piano qua. Poi ho collegato alla porta questo tratto di spezzone di filo in modo da cortocircuitare la porta 1 con la porta 2 ed ho svolto la calibrazione THROUGH. La calibrazione THROUGH ci permette di azzerare l'attenuazione di questo filo e di misurare sulla porta 2 il parametro SCATTER S2.1. Il parametro SCATTER S2.1 non è altro che il rapporto dell'ampiezza delle sinusoide misurata su questa porta fratto l'ampiezza della sinusoide che è stata trasmessa. Il nano VNA non è in grado di misurare la fase su questa porta qua, quindi misura solamente l'ampiezza, ma è proprio quello che ci serve perché questo corrisponde proprio all'attenuazione di ciò che noi metteremo tra le due porte una volta tolto questo filo. Il shock realizzato col comunissimo filo è stato collegato da un lato alla porta 1 del nano VNA e dall'altro alla porta 2. La traccia che vedete sullo schermo riporta il parametro S2.1 in decibel. Ho spurtato il marker in corrispondenza dei 3,5 MHz, infatti punta a 3,43 MHz e l'attenuazione che rileviamo è meno 29,7 dB. Questo dimostra che le capacità parassite che affliggono questo tipo di avvolgimento sono state parzialmente compensate dalla spira in più che abbiamo aggiunto. Nulla vieta che noi aggiungiamo un'altra spira poiché in questo tipo di ferrite, la ferrite con diametro 61 mm, cioè l'FT240, ci possono stare fino a 17 spire di cavo coassiale di diametro 5 mm. Quindi potremmo tranquillamente aggiungere un'altra spira e fare invece che 14, 15 spire per stare praticamente sul sicuro. Però già così, come potete vedere, la traccia è veramente molto buona. Sta al di sotto dei 30 dB in quasi tutta la banda, da 1 a 55 MHz e in corrispondenza di questo valore qui, adesso ve lo dico subito, di 20 MHz è quasi 40 dB, quindi meno 39 dB. Io direi che è un ottimo risultato già con 14 spire. Vedrete che col cavo non si discosterà molto da questo valore. Ecco, ho tagliato lo spezzone di cavo su Coform 141 FEPP, ne ho tagliato 1,20 m perché la lunghezza della spira media è 7 cm, sono 15 spire, quindi 15 spire per 7 fa 105. Poi ho aggiunto un po' di margine per fare questi codini che peraltro sono anche fin troppo lunghi. Le spire le ho volte con l'inversione, per così avrò l'ingresso da una parte e l'uscita dall'altra. E oggi ho volto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spire, l'inversione che fa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quindi ho aggiunto uno spire come già mi aveva indicato l'avvolgimento fatto col comune filo. Perché questo filo, avendo le spire più vicine e essendo di sezione più grande, avrà delle capacità parassite tra spira e spira più elevate. Quindi mi aspetto che l'attenuazione cali ancora un pochettino. Ora andiamo a collegarlo al nostro nano VNA. Ho spellato ed intestato il cavo sucoform, ho collegato la calza al centrale e i due li ho collegati alla porta 1 del nano VNA da questo lato e il cortocircuito tra la calza e il centrale l'ho collegato alla porta 2 del nano VNA. Ho fatto questa operazione ma potevo benissimo collegare solo la calza da un lato e la calza dall'altro lato o solo il centrale da questo lato e solo il centrale da quest'altro. I risultati sono perfettamente identici come effettivamente dice anche la teoria. Ora vedremo la traccia come risultata. Ecco la traccia che vedete è la traccia dell'S2.1 e è una traccia molto buona. In corrispondenza del marker 3.43 MHz vi sono 31.57 dB. Avremmo potuto magari lasciare anche 14 spire ma ormai le abbiamo fatte 15. La traccia si sviluppa al di sotto dei meno 30 dB fino a questo punto. Questo punto corrisponde pressa poco alla fine banda quindi ai 30 MHz fino a 29 890 MHz. siamo al di sotto dei 30 dB e il minimo si ha in corrispondenza degli 11 MHz. Questo choke quindi in grado di attenuare tutta la banda delle HF a partire dagli 80 metri e stare al di sotto dei 30 dB. A 1800-1810 si hanno meno 27 dB. Decisamente un risultato molto ma molto buono. Ho scollegato la calza del coassiale dal centrale da entrambi i lati ed ho lasciato collegato alla porta i due centrali. Questo lo faccio per sfatare un mito perché molti pensano che l'attenuazione di un choke debba essere misurata solo tra calza e calza. In verità è perfettamente identica tra calza e calza e tra centrale e centrale o se uniamo il centrale alla calza da entrambi i lati. La teoria dice questo. Teoria che vi lascio qui in descrizione. Come potete vedere non è cambiato nulla. A 3.43 MHz misuriamo di nuovo ancora un'attenuazione di meno 31,59 dB. Se noi misurassimo tra calza e calza troveremmo lo stesso identico valore. Quindi non preoccupatevi, potete misurare tra calza e calza, tra centrale e centrale o unendo il centrale alla calza da ambi i lati il risultato non cambia. Per pura curiosità andiamo a vedere l'attenuazione che abbiamo in VHF. Ho spostato il marker 1 a 50.140, dove risulta che l'attenuazione è di meno 23,05 dB. Attenuazione di tutto rispetto. Però se noi avessimo voluto un'attenuazione maggiore in questa banda avremmo magari dovuto scegliere una ferrite diversa oppure fare molte meno spire su questa stessa ferrite. Vi ricordo però che questa ferrite comincia ad avere delle perdite molto elevate al di sopra dei 30-40 MHz e quindi mi aspetto che questa ferrite in banda VHF escaldi moltissimo. Per questo motivo vi dico che il calcolo andrebbe rifatto dall'inizio scegliendo una ferrite diversa. L'ultima verifica da fare è quella di vedere l'attenuazione introdotta dal nostro choke sulle correnti di modo differenziale. Per questo motivo ho collegato sulla porta 1 il centrale del coassiale col centrale e la calza con la massa. Anche sulla porta 2 ho collegato l'uscita del choke sul centrale col centrale e la calza con la massa. Ho dovuto poi ricalibrare lo strumento perché prima avevamo fatto una calibrazione through con un semplice filo e adesso invece l'ho rifatta con un cavettino coassiale molto corto e ho fatto solo la calibrazione through. Ho lasciato stare la calibrazione SOL che inizialmente era stata fatta su questa porta e poi è stata spostata con 80 picosecondi in questo punto qua. Quindi il punto di misura della riflessione è su questo piano. Ora andiamo a vedere i risultati. Ecco, ho riportato i risultati sul display. Qui potete vedere la traccia dell'S2.1 ripreso dal canale 1 che il VNA lo chiama canale 1 ma in realtà è il canale 2 in decibel. La scala dei decibel è in decimi di decibel, cioè ogni quadretto è un decimo di decibel e lo 0, come potete vedere, è 0 dB, è in questo punto qua, esattamente questo, segnato dalla freccina. I valori sono estremamente buoni. Il marker l'ho portato a 30.7 MHz che è il limite di utilizzo di questo choke, il limite che ci siamo imposti noi obiettivamente, e l'attenuazione sulle correnti di modo differenziale è di meno 0,07 dB. Non arriva nemmeno a un decibel. Questo perché? Questo perché le induttanze disperse prodotte da un cavo coassiale sono molto piccole, in quanto la mutua induttanza è quasi perfettamente accoppiata e il coefficiente di accoppiamento K è molto vicino all'1. Vi dico però che se non utilizzerete un cavo coassiale ma utilizzerete delle linee appaiate, queste avranno delle induttanze disperse molto maggiori e quindi questa attenuazione non sarà così buona. Anche questo video finisce qui. Se vi è piaciuto o vi è stato utile, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Inoltre attivate la campanella, così potrete essere informati sui prossimi video. Alle prossime, ciao!